Luana Dorazio aveva 22 anni quando il 3 maggio del 2021 il macchinario di un'azienda tessile in provincia di Prato ne stritolò il corpo. Lorenzo Parelli, 18 anni, avrebbe voluto dedicarsi alla sua grande passione, la meccanica, se lo scorso gennaio una trave d'acciaio non l'avesse travolto e ucciso nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro alla Burimek in Friuli. Giuseppe Lenoci invece di anni ne aveva solo 16, quando, neppure un mese dopo, Lorenzo morì in un incidente stradale a bordo di un furgone di un'azienda marchigiana in cui stava svolgendo uno stage. Tre incidenti sul lavoro, tre morti di una triste lista a cui non si riesce a mettere un punto perché prima e dopo di loro a perdere la vita sono state altre Luana, altri Lorenzo, altri Giuseppe. Sono 790 i decessi registrati dall'Inail da gennaio a settembre di quest'anno, in media tre al giorno. Un numero fortunatamente in calo di circa il 13% rispetto ai primi nove mesi del 2021 quando i morti furono 910. Nello stesso periodo ad aumentare del 35%, fa però sapere l'Inail, sono invece gli infortuni sul lavoro, oltre 500.000 e di oltre il 18% le patologie legate alle mansioni svolte, quasi 44.000. Anche quest'anno a pesare sui dati è il fattore pandemia. La crescita degli incidenti infatti si deve in parte all'aumento delle denunce di infortunio da Covid e in parte alla crescita degli infortuni cosiddetti tradizionali sia durante lo svolgimento del lavoro che nel tragitto da e verso casa. Di pari passo anche il calo dei decessi si deve al minor numero delle morti da contagio a cui però si contrappone il parallelo aumento dei decessi per andare o tornare dal lavoro. I maggiori infortuni si verificano nella sanità, seguita da trasporto e magazzinaggio e riguardano tutte le età, in particolare la classe 40-59 anni.